Per annunciare che i nuovi video arriveranno nella vigilia di Pasqua, quindi oggi è per Pasqua. Farò dei video epici sull'accanto principale di Brawl Stars, Stumbleguys e Roblox. E possiamo provare anche Among Us. Anche se io già ce l'ho e ci gioco da un sacco ad Among Us. Ciao e ci vediamo ai prossimi video. Questo era un annuncio.